sensibilizzazione per dare ai nostri ragazzi, soprattutto a quelli più giovani, delle indicazioni e delle modalità di comportamento. Oggi più che mai questo problema è importantissimo. Oggi sappiamo che alla data odierna già 104 donne sono state uccise per mano praticamente di uomini violenti. Allora dobbiamo sottolineare l'attenzione, dobbiamo cercare di inculcare ai nostri ragazzi il rispetto. Dobbiamo fare in modo che il sacrificio delle sorelle Mirabal del 25 di novembre del 1960 non vada così disperso inutilmente. Donne vogliose di battersi, desiderose di portare avanti idee politiche, ecco hanno pagato col sacrificio della vita, ma venendo ai tempi nostri purtroppo i report aggiornati ci dicono di questi femminicidi e noi dobbiamo tenere alta l'attenzione. Ecco non basta dire dissento, no, non basta solo questo. Bisogna essere contrari, non basta astenersi, non basta stare lontani da questi comportamenti. Bisogna tutti insieme essere compatti contro questa violenza alle donne e per far questo ovviamente bisogna inculcare questi concetti ai ragazzi, soprattutto a quelli più giovani, farli crescere, farli evolvere nel loro percorso di vita tenendo saldi e forti questi principi.